Presentato a Biancavilla il sistema Picarro dal gruppo Italgas per mesi sarà monitorato preventivamente quello che riguarda la conduttura del gas nel territorio comunale cercando eventuali dispersioni. Per un approfondimento sull'iniziativa abbiamo sentito il sindaco biancavillese Antonio Bonanno. Ieri c'è stato un importante vertice al comune di Biancavilla con Italgas, è stato illustrato il nuovo sistema innovativo Picarro che permette un controllo delle condutture, delle eventuali dispersioni nell'area di presenza di metano e di etano. È stato un incontro molto importante dove al centro c'è la sicurezza dei cittadini anche in virtù di quello che è successo a Ravanusa a seguito di quei tragici eventi che hanno in qualche modo comportato delle vittime importanti, decine di vittime. L'incontro è stato anche un incontro importante per fare il punto della situazione. Ci hanno illustrato i vertici di Italgas come nella quasi totalità delle dispersioni in aria di metano queste dispersioni non sono quasi mai percepite dalla popolazione e quindi sono veramente importanti questi controlli che fanno loro. La differenza rispetto al passato sta che la Rera, l'autorità di regolamentazione impone ad Italgas un controllo a campione del 25% delle condutture. Attraverso questa strumentazione invece il controllo avverrà in maniera capillare, il 100% delle condutture verranno controllate, il 100% del territorio di Biancavilla sarà controllato da questo mezzo Picarro che girerà in orari notturni per ben sei volte durante l'anno e quindi è un modo anche per far stare più tranquilli la cittadinanza. Per questo noi ringraziamo Italgas per aver dato un segnale di attenzione alla città di Biancavilla per aver in questa fase sperimentato questa nuova tecnologia inizialmente su Biancavilla ma si estenderà in tutto il territorio. Sindaco per conoscere così qualche dettaglio, quando se c'è già un calendario, quando inizieranno questi controlli che poi appunto verranno effettuati in maniera ciclica e poi i risultati di questi controlli saranno dati alla fine, gli esiti come funzionerà esattamente il sistema. Sì, questi controlli sono di fatto già attivi perché il mezzo gira per le nostre città e poi i risultati sono in qualche modo poi illustrati. Di fatto Italgas ha già illustrato nel territorio di Biancavilla una riduzione di dispersione dell'aria. Nel 2020 si sono registrati ben 21 interventi di riparazione a seguito di ricerche di dispersione dell'aria. Anche tutte queste 21 sono state segnalate da parte di Italgas, da parte dei cittadini ma sono state in qualche modo accertate da Italgas. Nel 2021 invece si sono ridotte a tre le dispersioni in aria e ci auguriamo che nel 2022 tutto resti sotto controllo.